Marcello Fogolino con i propri collaboratori svolse un'intensa attività artistica, contribuendo a diffondere il linguaggio rinascimentale nel territorio del Principato Vescovile di Trento e realizzando raffinati cicli affrescati anche in luoghi lontani, come nel Castello di Malpaga, Bergamo e nel Palazzo Roverella di Ascoli Piceno. Eseguite per prestigiosi palazzi cittadini e castelli, le sue decorazioni con temi di carattere profano e i fantastici freggi, non altrimenti presenti in mostra, sono illustrate in questo video, che costituisce anche l'invito ad una personale visita del territorio alla scoperta delle imprese del grande artista. Hmmmm 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 Grazie a tutti